Siamo al 71esimo congresso italiano di pediatria con la professoressa Susanna Esposito, presidente di YDID, la società mondiale per le malattie infettive e disordini immunologici. Professoressa, lei ha lungamente approfondito il tema delle vaccinazioni. Iniziamo a spiegare perché sono importanti. Le vaccinazioni hanno cambiato totalmente la storia, diciamo così, delle malattie infettive in età pediatrica, ma in generale delle malattie infettive, hanno infatti permesso la scomparsa di alcune malattie o comunque la forte riduzione di altre. E soltanto grazie ad elevate coperture vaccinali è stato possibile ridurre il peso di patologie che erano mortali fino ad alcuni anni fa e che oggi sono controllate in molti casi. Ma quali sono le patologie per le quali ci si deve vaccinare, partendo da quelle per cui ci vaccinavamo noi da bambini? La cosa da sottolineare è che vi è un piano per la prevenzione vaccinale che sottolinea molto bene quelli che sono i vaccini raccomandati. E proprio questa parola raccomandati è un indicatore non di un consiglio generale, ma di un forte suggerimento. Attualmente nel primo anno di vita, a 3, 5, 11 mesi, sono raccomandate la vaccinazione esavalente e la vaccinazione antipremococcica con vaccino coniugato 13 valente. Nel secondo anno di vita, quindi a partire dai 12 mesi, è prevista invece la vaccinazione morbillo parotiterosolia e la vaccinazione contro meningococco C. Successivamente sono previsti dei richiami a 5 anni, in particolare il richiamo per difterite tetano per tosse polio e il richiamo per morbillo parotiterosolia. E negli adolescenti sono previsti ulteriori richiami, in particolare il richiamo difterite tetano per tosse e la vaccinazione contro papillomavirus. Naturalmente poi vi sono delle condizioni peculiari che portano alla necessità naturalmente di vaccinazioni aggiuntive, come la vaccinazione antinfluenzale, che è raccomandata in tutti i soggetti con patologia cronica e nei loro familiari, e che è comunque utile anche in tutti i bambini senza patologia cronica che frequentano i primi anni soprattutto della scuola materna e della scuola elementare. Così pure anche per specifiche situazioni come possono essere i viaggi internazionali, vi sono vaccini che possono risultare particolarmente utili e sicuramente vantaggiosi. Quindi diciamo così che i nostri genitori, le famiglie, dispongono di un panorama di vaccini assolutamente completo. Ma come si collacano le famiglie italiane rispetto alla vaccinazione dei loro bambini? Purtroppo oggi quello che stiamo osservando è un calo nelle coperture vaccinali e questo è un elemento di estremo allarme, perché certe malattie sono state controllate grazie alle elevate coperture vaccinali e al fatto che si creasse quella che viene definita herd immunity, cioè immunità di gregge nella comunità. A fronte di elevate coperture calano le malattie non solo nei soggetti vaccinati, ma anche in generale nella comunità tra i non vaccinati. Il problema del calo delle coperture vaccinali invece espone a rischio tutti, in primis certamente i soggetti con patologia cronica che avendo magari condizioni di immunodeficienza tendono a rispondere meno bene alle vaccinazioni e in secondo luogo naturalmente anche i soggetti sani perché a distanza di anni dalle vaccinazioni abbiamo una memoria immunologica, ma naturalmente laddove siamo esposti in maniera consistente ad un agente infettivo può anche essere che la memoria immunologica a distanza abbia portato a un calo degli anticorpi e quindi la risposta sia oggettivamente inferiore. Qualora in realtà continui una diminuzione dell'utilizzo dei vaccini o non aumenti, che impatto ha questo sul lato economico del nostro sistema sanitario nazionale? Diciamo che le problematiche sono due. La prima è una vera e propria problematica di sanità pubblica. Attualmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità è molto preoccupata per le coperture italiane nei confronti del morbillo ed è preoccupata perché le coperture sono basse e l'Italia si pone come uno dei peggiori paesi in Europa per numero di casi di malattia, cioè un numero molto elevato di casi di malattia. Allora a fronte di programmi che naturalmente non riguardano un semplice paese ma l'Unione Europea e a fronte del fatto che il nostro paese ha aderito apparentemente a questo programma diventa poi difficile trovare giustificazioni che spieghino come mai questo è avvenuto. D'altra parte se le coperture sono basse il problema è anche nella forza che viene a raccomandare le vaccinazioni. Credo davvero che serva un programma educazionale intenso rivolto ai genitori ma rivolto anche ai medici stessi. Anche per altre malattie come l'influenza ormai molti paesi del mondo stanno andando verso una vaccinazione anche nel bambino sano. Anche noi abbiamo effettuato ricerche a riguardo e considerando le caratteristiche del nostro sistema sanitario nazionale abbiamo dimostrato che la vaccinazione dei bambini che frequentano la comunità in generale che può essere asilo nido, scuola materna o comunque anche scuole elementari si associa a un grosso vantaggio in termini di riduzione dei costi della malattia, delle sue complicanze e in termini appunto di vantaggi socio-economici.